vai no no ma non ti fa insieme tom ti fa anche quell'altro stavolta ci sei? aspetta che lo buttiamo di là se riusciamo se gli dà un altro taglietto qua basta siamo a posto Ale perché come ti ho detto come fai a sapere qua se gli dai un tagliettino qua cade giù basta rimane lì nella cioè noi siamo bravo bravissimo la borsetta la borsetta si basta di qua ci siamo qui proprio non possiamo fare nient'altro io faccio fatica anche a passare sotto sei matto? no ma la consumiamo tutto per niente arrivano loro con quella gigante ascoltami loro ci hanno detto noi possiamo farlo quando torniamo loro ci hanno detto di andare avanti e fargli il passaggio a piedi quindi noi li prepariamo tutto il passaggio poi loro fanno quelle grosse no è inutile c'è chi sei in galleria? ragazzi c'è impressionante e siamo solo all'inizio si ma sono tutti questi si si peccato dalla bellezza della valle non ce n'è più non è che non ce n'è più qua c'è più neanche uno guarda la radice non c'hanno più radici è quell'insetto che gli mangia le radici eh qua gli facciamo il passaggio poi arrivano loro e tagliano loro con le grandi c'è mica il mio zaino poca il mio zaino eh ma è leggero il rambo il rambo ci continuiamo a muovere per forza ma che l'ultimo che ha fatto così non l'abbiamo più trovato cosa stai ci sono Grazie a tutti.